Ed eccoci qui cari telespettatori in questo bellissimo gruppo, guardate quanto siamo belli! Siamo belli o no? Siamo belli, basta. Allora abbiamo Luisa e... Lucia. Lucia, scusami, sono perso perché sarà malattia, però sono perso. Abbiamo Lucia, Luisa invece è lei, è là dietro, sì. Abbiamo Lucia alla chitarra perché adesso vi facciamo ascoltare questa canzone che hanno composto i nostri ragazzi qui, proprio dedicata alla pallavolo. Siamo pronti? Partiamo tutti quanti insieme? Vai che si canta, via! Questa è la storia di uno sporche, fa divertire molto e non riempie di stress. La palla al volo, insieme tiriam, la palla al volo e la schiacciam. Solo con le mani dobbiamo giocare e con impegno i punti noi dobbiamo far, schiacciando la palla nel campo di là, il punto per noi arriverà. Questa è la palla al volo è uno sport del CSI che ci insegna a stare insieme, l'importante è tutto lì. Questa è la pallavolo, ci alleniamo molto e sì, vinceremo stando insieme, il nostro motto è questo qui. È un po' malata, c'è un po' di febbre, per quello che l'ho scambiata un po' per Luisa, dato che...